buongiorno a tutti allora dopo avervi fatto il riepilogone dell'europa league vi faccio anche il riepilogone della conference league conference league pazza pazza perché ha insegnato tutto tutto è tutto gol tranne copenhagen psv che è over tre e mezzo addirittura per il resto è tutto gol 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 anche perché l'unica partita che finisce ai tempi supplementari era finita 2 a 1 o meglio 1 a 2 no 2 a 1 2 a 1 finita 2 a 1 cosa dico quindi era anche di gol quindi era tutto over ma partiamo prima di tutto con la partita della roma madonna benedetta dell'incoronata che sofferenza che sofferenza ho visto i video di Emanuele gladiatore giallorosso di SeaWorld quando sono tornato dal pocherino mi sono fatto giusto uno spuntinino visto che non avevo mangiato mangiato oggi il mio la mia pasta al pesto e basta stasera non ho mangiato ma già fatto uno spuntino veloce dopo il pocherino alla una e poi ho detto facciamo le cosine però abbiamo guardicchiato mentre giocavamo a poker sul telefonino del mio amico che ha tutte le app possibili immaginabili la partita è arrivato il gol al novantesimo è vero come è vero che il gol del Vitesse c'è Vitek 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 chi chezzo è Vitek chi chezzo è mi è arrivato il pallone dalla tre quarti dritto per dritto no quindi il cross arriva pema al volo pema al volo di esterno quei tiri a banana io li chiamo i tiri a banana no perché il pallone ha questo effetto qua gira 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 scegli roto uoce ecco gira e sono quei tiri che se tu lo prendi al centro della porta e prendi questo tiro con questo effetto qua il pallone ti va a finire nell'angolino e il portiere non lo prende più perché ha quell'effetto a uscire che o il portiere da quella parte giusta e ci arriva ma se è solo un po' spostato sulla non lo prende più perché gli scappa via come si suol dire va a finire nel cosiddetto fatale angolino quindi prende in pieno l'angolino non lo prendi più per quanto lui patrissio penso ci fosse lui patrissio un po' abbia fatto il volo della 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 colomba per cercare di prenderlo non lo prendi è che ha fatto un tiro non è che ha fatto un tiro uno dice vabbè ha tirato da dentro l'area eccetera no no dai 20 metri anche forse più di 20 metri però l'ha presa talmente bene talmente con questa curva a banana appunto che curucu giustamente i ragazzi sono i due romanisti i due ragazzi romanisti dicevano se non ci riprova altre 20 volte non ci riesce è che questo giocatore questo tiro ce l'ha ce l'ha non è che è estemporaneo ci ha provato gli è andata bene no ce l'ha è nel suo dna fortunatamente non sa difendere sul cross di el sharawi si addormenta guarda il pallone che arriva sul pallone si avventa il buon kasdorf che è andate a vedere il movimento che fa ebraham perché ancora prima che kasdorf vada sul pallone lui intuisce che kasdorf gli può dare la palla taglia verso la porta per farsi servire anticipa il difensore quindi si pone davanti al difensore che gli resta di fianco e sul pallone la mette dentro uno può dire un gol semplice perché praticamente a porta vuota perché anticipi tutti sì ma devi arrivarci su quel pallone e lui è bravo è bravo in questo si vede proprio il movimento lui centrale tra il dischetto del rigore e l'area piccola fa questi due passi in più per porsi a disposizione del compagno qualora il compagno dovesse servirlo è bravo kasdorf a colpirla di piatto subito come arriva sul rimbalzo e fare in modo di alzarla quel tanto che basta per metterla sulla testa del giocatore che però è stato bravo a inserirsi pareggio al novantesimo e passaggio del turno perché sennò sarebbero andati ai supplementari e tenendo conto che nel weekend c'era anche il derby non arrivavano propriamente benissimo a questo derby quindi roma che passa il turno meno male ve l'ho detto è importante che le due squadre italiane vadano più avanti possibile per mantenere il nostro ranking al quarto posto poi soprattutto l'atalanta che mi elimina una squadra tedesca ancora più importante visto che comunque inglesi e spagnole scordiamoci di andarle a prendere noi ci giochiamo sempre terzo e quarto posto con i tedeschi bayern monaco lo sappiamo è una certezza della della germania le altre squadre un po meno quindi riuscire a eliminarle diventa importante perché in questo momento di squadre tedesche che hanno passato il turno c'è l'ipsia e ce l'entra francoforte in europa league mentre invece in mi sembra che non ce ne siano più no non ce ne sono in conference quindi loro ne hanno tre due in europa league appunto l'ipsia e francoforte più bayern monaco in champions comunque la roma passa meno male spero di portarle fortuna pies via in dove non credo che sia un'avversaria temibilissima te la devi giocare non puoi andare a fare il curucu però un olandese l'hai eliminata fa il bis sempre che c'ha zecco ma andiamo a vedere come sono andate le altre partite non perdiamoci in chiacchiere il basilea mette un po di schiscetta al marsiglia perché l'andata era finita due a uno basilea che passa in vantaggio ma poi il marsiglia prima la pareggia e poi la ribalta ne sarebbe bastato gli sarebbe bastato anche il pareggio visto che ha vinto due a uno basilea un po di schiscetta gliel'ha messa il ren come mai ho messo uno a due all'andata e due a uno il ritorno è perché è uguale il risultato è uguale scusate un attimo colpa mia che ho scritto male e mi sembrava strano perché ha finita non ai tempi supplementari no l'andata era finita due a zero per il Leicester gol tra l'altro negli ultimi minuti perché erano solo uno a zero poi è arrivato il raddoppio ed è proprio questo gol qua che cambia completamente lo scenario perché il ren passa in vantaggio fosse finita due a uno passi in vantaggio supplementari il sì ti pareggia però ti basta un solo gol per invece il gol arriva solo al 75esimo del due a uno e non serve più a nulla perché sarebbe servito un terzo gol per andare eventualmente ai supplementari comunque il fatto del doppio gol che non c'è più rende le partite molto molto più avvincenti non è stata avvincente ahimè copenaghen psv in dove nel senso che non c'è stata storia il psv ha fatto vedere di essere nettamente superiore al copenaghen andando a vincere addirittura 4 a 0 e qua a questo punto visto che la roma ha preso il psv comincio a dire forse forse sarebbe meglio un'altra squadra certo vedendo le squadre che ci sono ci sono le due olandesi il bodoglin che magari è meglio evitare e lo slavia praga perché poi c'è l'eis est ah ci sarebbe il paok però andare in grecia non è mai bello comunque psv che massacra letteralmente il copenaghen e in effetti i bookmakers l'avevano puntato il psv io ho detto boh copenaghen mi va a pareggiare in casa degli olandesi 4 a 4 tra l'altro in rimonta sempre gli olandesi pensavo che in casa facessero invece si è che quella partita lì non l'hanno giocato un po' così ai supplementari invece è andata la partita tra la zeta almar nel bodoguin devo dire che questa conference league se la potremmo chiamare holland league visto che c'è il psv c'era perché due sono uscite ma negli ottavi c'era il psv la zeta almar il vitesse e il fejanor quattro squadre olandesi in conference league perché anche il vitesse è un'altra squadra olandese due sono uscite e due sono rimaste perché la zeta almar obbliga il bodoglin ha i supplementari bodoglin che aveva vinto 2 a 1 all'andata perde 2 a 1 con la zeta quindi risultato perfettamente alla pari si va ai supplementari e samsted se non sbaglio bello il gol perché è arrivato il cross si è inserito bella girata il portiere si è incazzato come una iena perché l'ha lasciato lì in aria però è stato bravo lui a inserirsi sul cross piattone a incrociare palla nell'angolino e 2 a 2 che elimina la zeta almarc quindi il bodo c'è ancora il pao xalonico dopo aver vinto 1 a 0 all'andata vince anche in casa del ghent tra l'altro segna subito quindi la mette subito in una certa maniera anche se ripeto il gol in trasferta non valendo più bastava il 2 a 1 ma il 2 a 1 lo fa il pao perché poi il ghent pareggia con un bel gol se non sbaglio un bel gol in girata credo che sia stato il giocatore del ghent a fare quel gol in girata magari mi sbaglio però ho visto un grandissimo gol in girata al volo con palla all'angolino però poi il pao la ribalta torna in vantaggio 2 a 1 chiuso il discorso vittoria all'andata vittoria al ritorno di Roma a Vitesse abbiamo già detto e poi c'è l'ASK Slavia-Praga partita folle perché vantaggio Slavia pareggia all'ASK se non sbaglio no vantaggio Praga poi lo Slavia-Praga va sul 3 a 1 poi restano addirittura prima in 10 poi in 9 quelli dello Slavia-Praga e anche lì veramente non non mi capacito stai vincendo 3 a 1 c'è bisogno di fare dei falli da espulsione adesso non so cosa sia successo perché ho visto solo gli highlight però addirittura due espulsi mentre stai vincendo 3 a 1 non mi capacito e quindi l'ASK prima in 11 contro 10 accorcia le distanze anche se c'è il paperone modello mio tiro da fuori portiere che fa l'orsetto e la palla gli passa sopra le mani e poi arrivano altri due gol con lo Slavia-Praga appunto in 9 e termina addirittura 4 a 3 però all'andata lo Slavia aveva vinto 4 a 1 quindi tranquillissimo e infine il Feyenoord batte 3 a 1 il partizio ma era una partita già scontata visto che il Feyenoord aveva già vinto 5 a 2 all'andata anche se all'andata era andato in vantaggio sempre il partiziano 1 a 0 1 a 1 2 a 1 2 a 2 e poi c'è stato i tre gol del Feyenoord che hanno chiuso il discorso bene ragazzoli vi ho fatto vi ho ragguagliato anche sulla Conference League concludo la seratona la dottatona nella giornata di oggi cercherò di farvi allora prima di tutto le bollettine sugli anticipi della sera 18 e 45 di Serie A e poi tutte le altre partite perché ci sono due partite di Serie A e una partita per ogni altro campionato uno del campionato spagnolo tedesco francese e inglese quindi 6 partite quindi cercherò subito due e mezza tre di prepararvele di caricarvelo e poi inizierò poi a farvi tutto il resto schedine e bollettine del gigione partendo dal campionato inglese 13 e 30 spagnolo 14 italiano francese e tedesco no tedesco e francese che probabilmente vi farò dopo il calcetto se sono ancora vivo dal calcetto perché non si sa mai spero di sì però l'altra volta sono stato abbastanza approvato meno male che ho avuto la settimana per riprendermi perché erano due anni che non giocavo e non ho più vent'anni come vi dico sempre detto questo ci vediamo alla prossima ciao ciao